Siamo all'interno dell'idrovora di Torre di Fine, un bellissimo edificio che risale al 1925. Oggi, settimana nazionale della bonifica, quindicesima edizione per un evento che interessa l'Italia intera e Torre di Fine ha aperto al pubblico l'idrovora. Da sabato 16 maggio a domenica 24 le idrovore di Sindacale, Cittanova, Termine e Torre di Fine saranno aperte al pubblico per far conoscere l'importanza di tali impianti e del lavoro svuoto dal Consorzio di Bonifica del Veneto Orientale. Riteniamo sia fondamentale per la bonifica stessa farsi conoscere, per dire alla gente chi siamo, che cosa facciamo e quanto importante per tutte le attività sociali ed economiche è che la bonifica funzioni. L'idrovora di Torre di Fine è stata scelta come location per l'inaugurazione della settimana nazionale della bonifica e dell'irrigazione. È un evento importante per il nostro territorio perché per la prima volta la settimana nazionale della bonifica e dell'irrigazione viene inaugurata nel territorio del Comune di Eraclea. Ha garantito la sottrazione alle paludi di questo territorio e ha permesso quindi di rendere fertili queste terre e di dare vita alle genti che ora la popolano. I quattro impianti, oltre ad essere aperti al pubblico durante la settimana della bonifica, ospiteranno anche mostre fotografiche di artisti locali che, ciascuno secondo la propria sensibilità, hanno ritratto il paesaggio di bonifica. Abbiamo voluto rappresentare anche con una mostra fotografica qui proprio dentro in idrovora per delle visite e vedere poi le bellezze di questo territorio di bonifica e poi altre mostre fotografiche in altri siti di impianti idrovori ma anche con delle attività ludiche e sociali come delle cicloturistiche, delle biciclettate proprio per far conoscere alle persone quanto di pregio si è fatto e si continua a fare. Le foto e le immagini della mostra allestita nell'idrovora di Torre di Fine catturano e ripropongono al visitatore la bellezza del paesaggio di bonifica. Si sta facendo avanti una figura nuova, colui che passeggia, corre in bicicletta, è colto e desidera nei luoghi dove va trovare, assieme al divertimento tradizionale, assieme all'enogastronomia, delle idee. Una, come si chiama, una chicca, qualche cosa che sia intellettualmente stimolante. Allora, in questo contesto il nostro paesaggio di bonifica può offrire molte cose perché è un paesaggio lento, è un paesaggio di vuoti. I pieni bisogna trovarli da sé. Noi, con gli interventi artistici, cerchiamo di dare delle chiavi per avvicinarsi il più possibile e fare poco tempo per entrare in coordinata. Per il visitatore occasionale, il turista o anche chi abita nelle vicinanze, questi luoghi sono decisamente la meta ideale per una giornata a contatto con la natura dove terra, acqua e cielo sono i protagonisti. È poco distante dal fiume Livenza, ci sono canali che portano nell'entroterra, come il collettore Briand, il canale Briand, che possono essere fruiti anche dai turisti con le barche, con mezzi di mobilità lenta, oppure dare sfogo, spazio a quei turisti molto più attenti all'ambiente, come sono quelli del nord Europa e che già cominciano ad arrivare in qui, in canoa, in barca, partendo da zone distanti e che vogliono e apprezzano molto più di noi le bellezze del nostro pianeta e della nostra località. Importante anche ricordare che la bellezza di oggi di questi luoghi è frutto del duro lavoro di badilanti e scariolanti che 90 anni fa, scavando e costruendo argini, hanno rubato all'acqua queste terre. Penso che sia giusto ricordare tutte quelle persone che hanno perso anche la vita e oltre a dare le loro fatiche, hanno perso la vita per darci un territorio che idraulicamente è sicuro e noi oggi dobbiamo rispettare questo loro lavoro. Molto lavoro è stato fatto, molto si sta facendo, ma il Consorzio di Bonifica del Veneto Orientale non si ferma e pensa già al futuro pronto a cogliere le nuove sfide. La sfida, oltre che continuare il grande lavoro di monitoraggio e di gestione di tutte le attrezzature che mantengono in equilibrio terra e acqua e attività umane è quello di spingere la Bonifica e la sua attività verso quei territori di sostenibilità ambientale e quindi con un'accezione completamente nuova del considerare la Bonifica quindi partendo dallo storico per rinnovare e portare quel vento di novità che serve a far apprezzare ancora di più a tutti i cittadini quanto di buono fa già e potrà fare ancora la Bonifica.